Carissimi, sono lieto di comunicare che oggi, 19 aprile 2023, il Santo Padre ha nominato nuovo asidescomo dell'Ansidio Sesi di Orlando, il reverendo padre Francesco Neri, dei frati minori cappuccini, finora consigliere generale. Accomodatevi. Carissimo padre Francesco, anche a nome della Chiesa Luntina ti rivolgo un cordiale saluto ed esprimo profonda riconoscenza al Signore che tramite Papa Francesco ti ha donato a noi come arcibiscono. Sappiamo che, negli ambienti in cui hai svolto il tuo ministero, vieni considerato un pastore esemplare, generoso e obbediente, costante, instancabile e fedele nell'avventimento dei differenti e significativi incarichi che vi sono stati contenuti. Sei stimato come un autentico uomo di comunione, capace di contribuire alla vita sinodale della Chiesa e quindi alla soluzione evangelizzatrice del mondo. credo di interpretare fedelmente i sentimenti della Chiesa di Dio che ti accoglie con grande affetto spirituale, ti accompagna da subito con la preghiera e ti augura un ministero episcopale gioioso, secondo di bene e sempre guidato dallo Spirito Santo. Cristo, buon pastore che dò la vita per il suo grece, è la via assicura di ogni pastore, è la sorgente della grazia necessaria per la missione ricevuta. Affiliamo all'intercessione dei Santi Martiri Bruntini e a Maria Santissima, Vergine del Cammino, che con il mistero di padre e maestro auguri. Applausi 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 consigliero ciascuno di voi un dono che il Signore ha regalato alla mia vita di uomo e di pastore. Ho sognato con voi una chiesa bella, giovane, profetica, famiglia di famiglie, pronta ad accogliere in ogni passaggio e locale la sfida della nuova evangelizzazione. Io ho amato sinceramente e sono stato ritambiato con sovrappondante attento nonostante le devoletà. Rimarrò ancora qualche mese con voi e guiderò questa assidiofisi come amministratore apostolico fino all'ingresso canonico del nuovo acciristo. Intanto pregate per me e accidatemi nelle maniche del Signore di Maria Madre di Dio. Grazie. 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 Buongiorno a tutti. Paola Cernene. Grazie a questa accoglienza cordiale che ho bisogno. Imaginate che sono momenti che contano nella vita di una persona. Mi chiedono un grande coinvolgimento, una grande trasformazione. Mi ringrazio anche di questa generosità. Ho preparato un discorso ufficiale. non lo leggerò alla lettera, non lo leggerò alla lettera, però lo faccio come canso. Carissimi, per la prima volta mi rinnovo a voi con il saluto di San Francesco, il Signore di Via Mace. Mi comincio a esprimendo la mia gratitudine e la sua santità a Papa Francesco, il quale mi ha benevolmente ritrovato meglio di fiducia, affidato di questo servizio nella marci di la Occi di Bordina. Ho potuto incontrare a Papa Francesco diverse volte e sono stato testimone diretto della carità che segna il primato della Chiesa di Roma e del suo mestolo. Mi dirige inoltre un saluto con affetto filiale a Sua Eccellenza Monsignor Donato Negro che ho il privilegio di conoscere e stilare da oltre 30 anni. L'abbraccio e il sorriso con cui mi ha conto sono per me un prezioso incoraggiamento. La sua persona e la sua esperienza saranno per me riferimento sicuro nell'esercizio dell'ufficio pastorale che mi attende. Approfitto per comunicare nella giunta al Pesco che abbiamo concordato come data delle ordinazioni sabato 17 giugno nella mattinata. L'ordinante sarà Sua Celesa Monsignor Negro nella nostra cattedrale di Occi. Salve. Applausi e la cattedrale di Occi. approfitto anche per salutare Sua Cerenza e Consiglio Aumento ci siamo conosciuti anche il passato anche bene risposto ci siamo incontrati a Santa Susana Eterna e grazie di questa presenza e dell'amicizia che crescerà sempre di più tra di noi di tratti di questa voce sono molto contenti della sua presenza all'archeggiare con la parrocchia dell'Immacorato e di Mare per molti motivi rivolgo poi un saluto guardiale attraverso di voi e tutta la gente del territorio abbracciato dalla Sudeosis tra la gente di questa Diocesi infatti a noi avevano già tanti amici che avranno la gioia di incontrare anche il cammino che sta iniziando penso ancora a voi sacerdoti e diavoli conosciuti in questi anni specialmente negli incontri di formazione permanente a Santa Cesare Eterno che è accaduto qualche anno fa tra l'altro Santa Cesare Eterno è un ruolo significativo per la provincia del Cattucino e qui vengo io sono stato eletto il ministro provinciale mi è stato eletto e riconfermato il mio ministro provinciale tra Gian Paolo Racerelli e poi penso ai seminaristi alcuni ho insegnato teologia all'Istituto Leggina Puglia di Mofetta alcuni erano seminaristi adesso sono sacerdoti siete una chiesa benedetta generosamente da Dio una chiesa bellissima e una terra bellissima tra i figli dei lacci di Ocesi che ho conosciuto desidero riportare in modo speciale due figure per me importanti entrambi i capuccini l'una è quella ben nota di Monsignor Benio Lava nata a Spongano il quale ha concluso la sua esistenza terrena pochi giorni fa il 6 marzo l'altra figura meno nota ma per me non meno significativa è quella di Fra Luigi Bedorno di Maglie mio compagno di formazione archeologica scomparso prematuramente nel 1991 la cui testimonianza continua a brillare nel ricordo di quanti l'hanno visto camminare sul sentiero della luce se tratta dello zio di Puglia di Puglia di Puglia grazie ringrazio il Signore per i doni ricevuti attraverso le persone che abbiamo introdotto e fatto crescere nella vita e nella fede i miei genitori i miei fratelli gli amici i formatori i docenti i sacerdoti della parrocchia Santa Croce di Pagli da cui provengo e poi i gesuiti dell'Istituto di Cania Brescia di Pagli e dell'Università Grimodiana di Roma ricordo in particolare tre figure episcopali alle quali sono dell'editore mi riferisco a padre dell'ideopapa arcivescolo di Napato già citato il quale mi ha ordinato diacolo e mi ha testimonato l'amore alla parola di Dio accolta studiata pregata annunciata fuori inoltre legatissimo al benedettino padre Mariano Magrassi a scivescolo di vari di Tonto il quale mi ha ordinato presbitero e mi ha attraggio alla liturgia come spazio in cui si incontrano la terra e il cielo e guardo ancora il venerabile Don Tonino Bello vescovo di Molfetta Lugo Giovinazzo Terlizzi che ha ordinato sacerdote mio fratello Don Antonio Neve e mi ha insediato che la basilica maggiore ovvero il signore alta in cui occorre l'orarlo sono i poveri e i sofferenti ringrazio in modo speciale l'ordine dei frati minori da Lucini la famiglia religiosa con cui ho condiviso circa 40 anni di vita cristiana e a vivevo così tanto mi sarà difficile staccarmi dalla loro quotidianità ma continuerò a condividerne il carisma e lo stile di fraternità e margenza per questo desidererei continuare ad essere chiamato come è stato fino ad oggi semplicemente padre Francesco ciò infatti chiedo al signore di potersi dare un'offerta di paternità e fraternità quando il nunzio apostolico sceglie e ha comunicato questa responsabilità affidata da Papa Francesco parlo adesso liberamente mi è capitato di sentire nuovamente lo sguardo e l'amore del Signore fissarsi su di me il processo si fosse aperto una seconda volta come già tanti anni fa un amore che mi guarda e mi chiede a rispondere con un amore sino alla fine quando mi sono consigliato poi con il mio padre spirituale che sarebbe il mio vicino di Carlo in cura generale padre Daniela e lui mi ha detto non cercare niente e non rifiutare niente a me è venuta immediatamente l'immagine della moltiplicazione dei panni dei pesci sapete che nella versione di San Giovanni compare un ragazzo che mette a disposizione i panni e i pesci Gesù non dice va bene penso io basta io no vuole che questi panni e pesci vengano portati dal ragazzo il ragazzo gli mette nelle mani di Gesù e poi le mani di Gesù proteggono e qui io mi sento un po' come questo ragazzo in quel momento io offro interamente ciò di cui rispondo e poi le mani del Signore produrranno la moltiplicazione il Signore stesso a partire da una persona di povero peccatore compierà la sopra e perciò vado a concludere chiedendo il dono della preghiera a tutti voi chiedo preghiera anzitutto Maria Santissima la piena di grazia la più umile e alta tra le creature la madre del Signore ci ricorda che la vocazione ultima dell'uomo è una sola quella all'unione con Dio e alla santità e che il nostro cuore è inquieto finché inizia la pace abbandonandosi totalmente delle mani di Dio pronunciando in ogni istante della vita il nostro amore chiedo premiera a San Cibescovo Stefano a tutti i santi martiri di Dio a dieci anni dalla loro canonizzazione essi ci insegnano che per essere cristiani è necessario rinunciare se stessi prendere ogni giorno la croce dell'amore sino alla fine per giungere alla conformità con Gesù crocifisso risolto chiedo premiera a San Francesco d'Assisi perfette immagini di Cristo e fratello di Versano e a tutti i santi della famiglia francescana in particolare a San Pio da Pietrecina rappresentante stampato per il stigma di nostro Signore da cui prendo gli onori di battesimo chiedo preghiera a uno di voi carissimi fratelli affinché tutti insieme ci apriamo la zona dello Spirito Santo il quale costruisce la comunione tra noi e ci spinge ad annunciare il Vangelo l'Ori di Tera vi invito a farlo con le parole ancora una volta di San Francesco con cui concludo il programalizzato e la preghiera all'Omnipotese Onnipotente eterno giusto e misericordioso il Dio concedi a noi i miseri di fare per tua grazia ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che ti piace affinché interiormente purificata interiormente illuminata e accesi dal fuoco dello Spirito Santo possiamo sentire le orme del figlio tuo il Signore nostro Gesù Cristo e a te ho altissimo giungere con l'aiuto della tua sola grazia tutti i dirveni glorioso nella trinità perfetta e nella semplicità Dio Onnipotente per tutti i secoli dei secoli grazie benedico di cuore sappiate che ancora una volta ieri sera nella preghiera grazie al Cristo Cristo di San Fabiano ho sentito ho sentito una grande pace e una grande gioia non psicologiche ma frutto del top del dito della resta di Diopatio qualcosa di spirituale e quindi sono nella pace e nella gioia sono felicissimo di iniziare a camminare insieme a noi pace e bene grazie grazie a Vita Padre Francesco e grazie a ciascuno di voi accompagniamo con la preghiera ogni giorno per lui va bene e in modo tale che il 17 di giugno ci ritroveremo insieme proprio per l'ordinazione di Cristo Madre avete visto come vi sta bello di un case che si sta preparato pure o bene ho un buon ringraziato grazie a Vita mi esitato il nome di Amato e quindi per farlo dato 6.000 queste idee grazie 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 mi esitato grazie 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 ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.